buongiorno a tutti Sara stai calma perché saranno 20 minuti che parlo ma non avevo praticamente attivato la videocamera quindi stavo parlando da sola come una cretina per fortuna che mi sono accorta perché mi fossi accorta proprio all'ultimo mi prendeva male no comunque non si può vabbè iniziamo bene allora sto registrando adesso controllerò ogni secondo comunque bentornati in un nuovo video questo qui sarà un video di acquisti come avrete già letto dal titolo acquisti misti perché c'è veramente di tutto dai prodotti per la casa candele pulizia casa cosa che ho tisane prodotti beauty makeup c'è veramente di tutto quindi ho raggruppato un po gli acquisti dell'ultimo periodo da qui a circa due mesetti fa insomma e niente per fare un video un po chiacchiericcio tranquillo proprio perché è un po che non registro e volevo un attimo ritornare ecco in vita su questo canale allora prima però di farvi vedere gli acquisti che ho fatto io personalmente vi volevo far vedere una collaborazione sapete che ogni tot ogni tre quattro mesi maybelline mi invia delle novità dei prodotti che sono usciti insomma nuovi o che stanno per uscire da testare io li ringrazio tantissimo perché ogni volta che ricevo questi pacchettini rimango un po spaisata sorpresa perché con tante ragazze che fanno video più professionali non lo so più più spesso anche con tante ragazze anche bravissime a truccarsi che non lo so non che mi senta in difetto ecco a ricevere queste cose però ci rimango un po perché dico cavolo proprio me infatti sono veramente contentissima di questa cosa ecco spero di essermi spiegata allora comunque cosa mi hanno inviato un pacchettino con all'interno tantissime cose e la copertina diciamo così la parte superiore del pacchettino è questa l'ho già aperta perché perché sennò poi sto qua ore a cercare di aprirlo maybelline drive c'è scritto truccati con maybelline è in sembra quasi in tema halloween insomma con le ragnatele i ragni che scendono e all'interno di questo pacchettino si presentava proprio così in primo piano abbiamo una maschera viso quindi all'interno abbiamo sia prodotti make up che per la skin care allora la maschera viso è quella in tessuto di garnier questa qui è quella idratante rivitalizzante energizzante con acido ialuronico e melograno questa qua sono quelle che insomma ci sono da ormai ho già un po di tempo che girano che girano che si trovano in giro e niente sapete che mi piacciono quindi assolutamente omaggio graditissimo poi altro prodotto per la skin care che mi hanno inviato anche questo qui è un prodotto che ho già utilizzato di cui vi ho già parlato sapete che mi piace un sacco è l'acqua micellare bifase sempre di garnier con olio di argan efficace su trucco waterproof strucca detergi idrata senza risciacquo viso occhi labbra non lascia residui oleosi eccetera questa qui è la mia italia che è carinissima tra l'altro da 100 ml quindi comodissima anche da portarsi in viaggio è molto pratica niente io ho provato appunto la full size quella da 400 ml se non sbaglio mi piace tantissimo non brucia gli occhi e strucca veramente in modo ottimale gli occhi anche il trucco appunto waterproof come c'è scritto senza lasciare davvero la patina oleosa quindi un prodotto fantastico e quindi anche questo qui insomma super super gradito poi arriviamo alla parte un po più succulenta del pacchettino allora tre prodotti per le labbra che già conoscevo in realtà perché ne avevo acquistato uno qualche mese fa su amazon ve l'ho fatto anche vedere in qualche video forse qualcuna di voi si ricorderà e sono le super stay ink crayon queste adesso vediamo come ve le faccio vedere comunque questi prodotti qui una sorta di rossetti però nel pack questo qui a matitone più o meno ora le mie descrizioni non saranno proprio perfette e in tre colorazioni allora mi hanno inviato un nude marroncino che è la numero 20 che è appunto questa magari se riesco vi faccio anche vedere il colore questo colore qua ve l'ho fatto vedere anche indossato su instagram ho fatto proprio la foto un colore molto carino molto portabile poi mi hanno inviato appoggiamo qui le cose il numero 50 che è invece un rosso questo ancora in realtà lo devo swatchare e aprire vediamo se ce la faccio scusatemi sempre tutto all'ultimo perché io mi preparo i video prima giustamente e dai ce l'ho fatta allora vi faccio lo swatch comunque questo colore qui appunto sul rosso questo lo mettiamo sono allora da stendere vedete sono una cosa adesso proviamo a fare una riga qua guardate come si stendono facilmente il colore è pieno dalla prima passata sono estremamente cremose come come texture sulle labbra sono veramente molto confortevoli non seccano però contate che dopo un po questa parte lucidina si va va a sparire e diventano completamente matte sulle labbra opache si opacizzano io ho provato quella marroncina appunto quella nude sul marroncino quasi un biscotto sembra come colore e poi quella che avevo acquistato appunto tempo fa che è sul fucsia e durante la giornata assolutamente non mi danno problemi durano davvero tanto un 5 6 ore me lo fanno tranquillamente bevendo anche il caffè e mangiando ora io ho fatto solo merenda con quelle tinte con queste labbra con questi rossetti però è rimasto intatto praticamente quindi per me sono dei prodotti veramente buoni e poi l'ultimo colore che mi hanno inviato il numero 45 questo qua ok che è più sembra che abbia una punta d'aranciato all'interno questo qua comunque molto 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 carini ve li farò vedere su instagram magari indossati ok poi altri prodotti adesso mi sistemo un attimo che non mi sento più in piede mi hanno inviato anche il loro tattoo liner che è nuovo c'è scritto nella colorazione nera 710 ink black quindi un eyeliner per gli occhi faccio vedere anche come all'interno non l'ho ancora provato ovviamente non lo apro perché ho paura che si secchi visto che ne sto utilizzando un altro in penna lo aprirò non appena termino quello e poi tre matite per le sopracciglia tra l'altro mi serviva anche dovevo andare a prenderla queste qua queste sono le brow ultra slim sono sottilissime hanno una mina sottilissima molto precisa magari ve ne faccio vedere una perché l'ho già utilizzata questa è la colorazione soft brown che per me va molto cioè è la mia diciamo è la colorazione media vedete che hanno una mina molto sottile non è troppo morbida quindi va a fare un tratto preciso che non sbava insomma il tratto giusto ecco per ridisegnare le sopracciglia e appunto mi hanno inviato tre colorazioni questa che è la media che va benissimo per me quella più chiara che è la blonde e quella più scura deep brown quindi questi tre e basta queste sono state le cose appunto che mi hanno inviato da da Maybelline io li ringrazio ancora tantissimo poi andiamo avanti e direi di andare con allora una nuova scoperta per me un sito stavo facendo un giretto online per acquistare un prodotto in particolare che tra l'altro mi ha consigliato una di voi se vedi questo video ora non mi ricordo come ti chiami magari commentami qua sotto che ti ringrazio personalmente perché grazie allora di cosa sto parlando il sito si chiama sempre farmacia è un sito fornitissimo ma tantissimi tantissimi marchi tantissimi prodotti di ogni tipologia da parafarmacia integratori drenanti appunto farmaci da banco a prodotti beauty soprattutto incentrati su linee appunto di cosmetica che troviamo in farmacia quindi abbiamo la Codalie abbiamo Aven abbiamo la Nux Nux non so come si pronunci e tutte quelle marche insomma che di solito troviamo in farmacia io che cosa ho acquistato in realtà cinque prodotti ma bene mostro tre uno perché è un farmaco da banco che non sto qui a mostrarvi sinceramente non mi sembra il caso uno è un drenante che però ho lasciato in negozio al lavoro insomma nell'armadietto perché lo uso lì e quindi vi vado a mostrare gli altri tre prodotti allora l'ordine è partito per questo che è di Nux o Nux forse Nux io dirò Nux scusatemi se è sbagliato che è il balsamo olio per il corpo fondente al miele per pelli molto secche e sensibili questo prodotto qua spero che si veda bene contate che io l'ho fatto questo ordine circa una settimana fa e vi faccio vedere che proprio non mi sta piacendo questo prodotto me lo sto praticamente mangiando mattino e sera dopo la doccia comunque al mattino prima di uscire io devo metterlo sapete che soffro di secchezza soprattutto sulle gambe nel periodo freddo comunque in generale sulla pelle del corpo è molto sensibile e secca questo è un prodotto fantastico si tratta di un balsamo per il corpo vabbè dove essere un video acquisti vi farò anche una piccola recensione magari stringo ma volevo darvi giusto due informazioni è un balsamo corpo molto corposo che a contatto poi con la pelle quando appunto lo spalmate è come se diventasse leggermente oleoso non è unto non pensate a qualcosa di mio dio fastidioso che non si assorbe più assolutamente ma vi dà questa sensazione di pelle proprio protetta durante la giornata che è fantastico cioè io non ho più la pelle secca sulle gambe da quando lo utilizzo il profumo poi è buonissimo perché appunto sta di miele è un profumo molto invernale coccoloso ottimo allora ve ne parlerò sicuramente in un video apposito sui prodotti top e flop magari ora vediamo comunque vi dico che è veramente fantastico l'ho pagato intorno ai 15 euro poi vi metterò il link comunque di tutto qua sotto altro prodotto sempre della stessa marca che ho voluto prendere anche questa era scontata mi sembra 9 euro è la maschera per il viso maschera crema purificante delicata ai petali di rosa cioè capite che non potevo lasciarlo lì questo qui è il prodotto ci sono anche i petali di rosa disegnati e la maschera è questa l'ho già fatta anche questa qua un paio di volte è proprio una maschera in crema sono 50 ml vedete che è utilizzata è una maschera in crema che è veramente forse anche purificante però non ho notato proprio questo aspetto io ho notato proprio l'aspetto idratante perché la pelle quando la vado a mettere se la beve cioè dopo 5 minuti che io l'ho applicata la vado a rimuovere ovviamente ma ce n'è pochissima sul viso proprio perché l'ha assorbita tutta e poi la pelle è veramente morbidissima liscia levigata ottima anche questa qui mi ha fatto veramente un'ottima prima impressione l'ho provata solo due volte vi farò sapere anche più avanti poi ultimo prodotto che cercavo da una vita e mezza ma qua non lo trovavo da nessuna parte è un detritore detergente intimo di Gino Canestern detergente intimo lenitivo con glicina famosissimo ormai perché l'ho visto in tantissimi video sono 200 ml e su questo sito l'ho pagato intorno ai 5 euro 6 euro quindi ha dei prezzi veramente buoni perché io questo l'ho visto da Tigotà ancora tempo fa ma non l'avevo acquistato adesso l'hanno tolto non c'è più da Tigotà almeno nel mio dove mi fornisco io a mi sembra 8-9 euro quindi un buon prezzo non ve lo sto qua ad aprire insomma adesso sto finendo altri prodotti non l'ho ancora utilizzato e questi sono stati gli acquisti che ho fatto su questo sito allora andiamo con Avon ho fatto un piccolo ordine Avon e che cosa ho comprato? esco dalla mia borsina innanzitutto un'acqua profumata per il corpo sapete che le amo le loro in particolare sono delle acque profumate molto semplici in realtà ma con delle profumazioni comunque non banali ricercate durano abbastanza soprattutto a contatto con i vestiti insomma sui vestiti e questa qui è alla prugna e sugar sugar plum sarà zucchero di canna penso una cosa del genere e prugna nella confezione natalizia buonissima una profumazione dolce ma fruttata buona buona quelle che piacciono a me sono 100 ml il prezzo sinceramente non me lo ricordo non c'è neanche dentro il foglietto chissà dove l'ho messo ma le ho trovate insomma 1,99 euro 2,50 euro meno di 3 euro comunque quindi ho preso questa poi ho preso un nuovo prodotto si tratta dell'avon linea Avon True Power Stay 16 ore sono delle tinte labbra questa è la confezione esterna in cartoncino io ho preso la colorazione Persistent Pink che dal catalogo mi sembrava diversa sinceramente è molto rosata allora questa è la tinta ora io lo swatch non lo faccio perché qua c'è scritto 16 ore ma ragazze veramente cioè io ho fatto una volta la prima volta che mi è arrivato la prima volta ieri mi è arrivato l'ordine l'ho swatchato sulla mano e non andava più via quindi non lo faccio comunque è un colore vedete che è molto rosato l'ho provato sulle mie labbra ieri sera per uscire e me lo sono tolta dopo 5 minuti perché trovo che sia un colore che a me non doni particolarmente io sono molto chiara di carnagione e questo rosa mi va a è più più chiaro delle mie labbra quindi me le va a schiarire ulteriormente e fa un po' l'effetto morticcia non lo so non mi piace tantissimo magari un giorno lo proverò in un video fatemi sapere voi cosa ne pensate io non me lo vedo proprio bene ecco quindi purtroppo un acquisto un po' sbagliato per me però veramente dal catalogo mi sembrava diverso poi un fondotinta 16 minuti ottimo è partito per un fondotinta in realtà perché ho finito il mio di Wicon e ho detto ma si proviamo uno di Avon sempre della stessa linea sempre power stay 24 ore questo dovrebbe essere un fondotinta leggero anche a effetto matte vi faccio vedere il pack interno è molto carino secondo me in vetro bello mi piace questo qui ovviamente non l'ho ancora provato vi farò sapere insomma sto cercando di terminare proprio fino all'ultima goccia l'altro comunque lo proveremo vi farò sapere poi acquistando alcuni di questi prodotti non so quali in realtà ogni tanto fanno le promozioni che se acquisti due prodotti da questa pagina a questa pagina a 5 euro puoi avere questo kit e io con 5 euro ho preso questo kit allora innanzitutto la pochette cioè guardate è bellissima sono quelle che ti fanno diventare cretina a forza di fare vedete adesso vanno un sacco queste cose ma io mi ci perdo potrei passare un pomeriggio stare qua a fare così e all'interno c'erano due prodotti vabbè un temperino non si vedrà nulla ma è un temperino per le matite e una matita automatica che ho già aperto nella confezione la colorazione è cobalt cobalto della linea Avon Mark questa qua insomma è un blu scuro non sto qui a sbocciarla comunque è un blu molto scuro poi vabbè mi hanno dato un campion due campioncini di questo profumo Avon Maxima e Maxime che dovrebbe essere nuovo io odore profumi Avon e poi un campioncino della nuova linea distillery Purify è un olio per il viso purificante l'Inci non è affatto male di questi prodotti è la nuova linea che ha fatto chi ha sfornato Avon e poi questo qui che è invece un penso una crema per il viso l'acido ialluronico però ho guardato l'Inci no sinceramente non non l'auto utilizzerò ok con gli acquisti Avon ho finito allora vado con acquisti proprio tre acquisti che ho fatto su Amazon nell'ultimo periodo uno l'acquisto per la casa e si tratta dello spray per purificare l'aria io lo utilizzo soprattutto in camera da letto quando faccio magari il cambio delle lenzuola dei cuscini coperti eccetera ma anche in casa ogni tanto insomma questo qui è della Pure Essentiel spero che si dica così con 41 olio essenziali 100% puri e naturali purificante dall'aria controllato ha dell'aria controllato 100% origine vegetale comunque questo è formato piccolino da 75 ml è certificato Ecosert che cos'è? praticamente è uno spray dalla profumazione balsamica insomma che andrebbe a purificare l'aria di casa io vengo sempre attirata da queste cose sono un po' fissata anche con le pulizie di casa sono un po' fissata volevo farvi anche un video sui prodotti che sto utilizzando in questo periodo per pulire casa perché sto avendo sto avendo sto utilizzando prodotti quasi tutti verdi green c'è qualcosina che non riesco ad abbandonare però in sostanza uso prodotti cerco di utilizzare prodotti biodegradabili meno inquinanti possibili magari vi farò un video su questa cosa insomma fatemi sapere se vi può interessare comunque ho acquistato questo prodotto il prezzo non me lo ricordo e poi c'erano in offerta 6 euro e qualcosa 6 euro e 50 ritorniamo sempre su Maybelline giuro che non mi paga però io queste tinte labbra le adoro super stay matte ink nella colorazione 20 che è quella che ho indosso adesso praticamente è un colore stupendo io amo queste tinte labbra ma ve l'ho già detto non mi dilungo e ultimo prodotto invece questo qui è della rimmel è una matita per gli occhi automatica waterproof nera della linea non lo so comunque questa perché l'ho presa perché l'ho trovata in super offerta a 3 euro vedete sono quelle automatiche queste qui in negozio le pagate anche sui 9 euro 10 euro e ok ci siamo poi andrei con 3 acquisti che ho fatto da DM allora 2 creme per il corpo una perché era in offerta al 30% di questa linea che si chiama Amaflora balsamo corpo setificante rigenerante albicocca e acai o come volete questa linea qua c'era appunto lo stand con alcuni prodotti scontati io mi sono limitata a questo non ho preso altro sono stata bravissima e l'ho già utilizzato qualche volta anche se l'ho un po' accantonato per quello di Nuxe e niente è un burro molto più corposo rispetto a quello di Nuxe mi piace tantissimo anche questo solo che di quello dell'altro preferisco la profumazione è una droga e quindi lo utilizzo più volentieri sostanzialmente solo per quello poi come prodotto è buonissimo anche questo ho dei capelli terribili mi sembra questo video vabbè poi altro prodotto ho acquistato il famosissimo chiacchieratissimo e amatissimo burro corpo di Alverde con burro di karité e macadamia questo io in inverno questi prodotti me li bevo praticamente quindi non sono mai troppi e poi ho acquistato giusto perché c'era mi serviva un prodotto che va come il pane la schiuma da rasatura questa qui era il cioccolato bianco un'edizione limitata che non avevo mai visto mi piacciono tantissimo insomma questo genere di prodotto poi ho acquistato anche due tisane una della linea biologica del DM questa qui dovrebbe essere i frutti di bosco se non sbaglio non c'è scritto l'italiano comunque questa ce ne sono un sacco da DM veramente una tentazione perché ogni volta che vado vorrei prenderle tutte e poi questa qui che è sempre linea DM ma non linea biologica linea classica che è con il cocco che è buonissima questa è proprio buona ve la consiglio se vi piace il cocco ovviamente è molto delicata ma c'è questo retrogusto di cocco che è particolare buona ok qua direi che ci siamo allora vado con un acquisto piccolissimo che ho fatto da MD sono andata a fare una piccola spesa e ho trovato lo stand di Neoveda che è questa linea qua per i bambini in realtà però io l'ho preso per me e ho comprato l'olio idratante da massaggio con estratto biologico di calendula olio di jojoba e olio di oliva sapete che anche l'olio è un prodotto che mi bevo quindi anche questi non sono mai abbastanza poi è piccolino sono 100 ml lo uso facilmente insomma costava pochissimo mi servono intorno i 2 euro e è biologico non so se ve l'ho detto e poi candeline in un negozietto ho acquistato 4 come si chiamano tart di Yankee Candle adesso è iniziata la stagione fredda quindi io rinizio a accendere candele in ogni dove questa qui che non sto a leggere perché è in francese io non lo so comunque questa sono molto autunnali invernali poi questa qui dovrebbe essere tipo alle castagne poi due invece uguali ve ne faccio vedere solo una icy blue spruce 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 questa e anche qua ci siamo tigota allora ho fatto pochi acquisti ultimamente devo dire da tigota rispetto ai miei standard però ho qualcosina da mostrarvi non è nulla di che non aspettate di chissà cosa inizio con i prodotti per la casa visto che così cambiamo e ho acquistato proprio ieri l'ammorbidente che sta in offerta della green emotion questa qui è la ricarica ecco ricarica meno 60% di plastica ammorbidente con olio essenziale di gelsomino questo qui non mi ricordo se intorno ai 2 euro forse sono 60 lavaggi qua dice con materie prime di origine naturale eccetera insomma lo proveremo adesso sto utilizzando quello di winnis alla profumazione fiori bianchi mi piace tantissimo devo andare a ricomprarlo perché è veramente buono poi ho comprato questo prodotto non si tratta di prodotto biologico insomma o naturale però lo vedo ovunque tutti ne parlano bene ho detto ma proviamolo della Rio si chiama melaceto con aceto di mele biologico sgrassa a fondo elimina tutti gli odori ideale per lavelli piastrelle fornelli forno frigo elettrodomestici utensili da cucina quindi un po' per tutto 800 ml costava poco anche questo anche se non era in offerta e quindi lo proverò vi farò sapere poi ultimo ho comprato il pulitore wc gel senza profumi di sintesi e questo qui è certificato vegano e icea della verde officina questo questo qui era in offerta sono 500 ml sto finendo il mio di biologic se non sbaglio e niente proviamolo ho visto che era in offerta poi ho acquistato un dentifricio anche su questi generi di prodotti cerco di stare molto attenta a quello che contengono e della dentamentin eco bio natural appunto dentifricio eco bio naturale certificato icea l'avevo già acquistato questo è con liquirizia e mentolo questo qui è molto buono un buonissimo sapore molto rinfrescante sto finendo a fatica quelli di ph bio che mi fanno letteramente schifo non si dice lo so però non mi piacciono cioè mi dà proprio la sensazione di non lavarmi i denti e niente questo qui invece è molto molto buono poi vabbè avevo trovato in offerta tempo fa i dove quindi ne ho acquistati due ho riacquistato quello alla mela che sapete mi è piaciuto un sacco e poi ho acquistato questo semplicemente per il pack che è floral touch si chiama questo qui limited edition c'è scritto probabilmente per la decorazione che ha poi bagnoschiuma uno solo avete visto non ho comprato bagnoschiuma sono stata bravissima scusate eccomi ci sono ultime due cose scusatemi per l'interruzione e non riuscivo a bloccare il video non lo so c'è qualcosa che non va a sto touch di sto telefono comunque vi facevo vi stavo facendo vedere il bagnoschiuma che ho preso giusto perché era proprio in super offerta non mi serviva ma vabbè di palmolive quello al burro di karité doccia crema con latte idratante io quando arriva l'inverno prediligo proprio queste profumazioni e il bagnoschiuma in crema tutto l'anno quello però quelle profumazioni un po' più coccolose più di pulito più di coccola proprio che descrizione e poi ultimo acquisto che ho fatto da Tigotà sono andata con delle mie amiche appunto fare un giretto e davanti per andare verso la cassa di solito mettono i profumi magari super scontati con i tester da provare io li provo sempre e ho provato questo profumo però non l'ho acquistato sono uscita mi sono fatta un giro ma caspita sto profumo era troppo buono troppo buono cosa ho fatto sono rientrata e l'ho acquistato ho acquistato il blooming rosa di Gianfranco Ferre questa è la boccettina ho buttato quella esterna perché non tengo le confezioni esterne insomma se no mi riempirei la casa di carta è un 30 ml ho preso quello piccolino perché non ne ho bisogno di profumi l'ho pagato intorno ai 25 euro sicuramente quello da 50 era molto più conveniente perché costava intorno ai 30 se non sbaglio però va benissimo così insomma è è troppo buono adesso me lo spruzzo che tra l'altro non ho neanche messo il profumo stamattina quindi ci sta allora intanto non è assolutamente secondo me un profumo invernale però a questa la rosa si sente tantissimo quindi vi deve piacere come profumazione perché si sente molto fiorito ma la rosa si sente proprio persistente è buonissimo è molto femminile come profumo delicato ma non che non si senti insomma io me lo sento addosso buono io non so descrivere i profumi se non si fosse capito però se vi piace la rosa secondo me adesso l'ho trovata in offerta provate a dare un'annusata se andate in negozio e niente ragazzi io ho finito mi sembra di averli fatto vedere tutto quanto niente fatemi sapere appunto nei commenti se avete già provato qualcosa qualsiasi quello che volete insomma e ci vediamo prossimamente ciao e poi non si spegne il video ma dai ragazzi e poi ho finito un'annusata